Hai mai utilizzato dello sfago per le tue creazioni fai da te? Ciao, io sono Letizia, creativa del canale Vivi con Letizia dove puoi trovare tantissimi progetti di riciclo creativo, fai da te e trucchetti per casa. Oggi ti mostro ben 8 cose sorprendenti che si possono fare con del semplice sfago. Se ti piace un tutorial come questo ti consiglio di iscriverti adesso al mio canale cliccando su iscritti e sulla campanella per non perderti nessuno dei prossimi video. Se invece questo video non ti piace lasciami pure la tua critica costruttiva nei commenti. Ora passiamo al tutorial, continua a guardare! Ciao! 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 Shit! Ciao! Grazie a tutti. 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 Ciao. Grazie a tutti. Grazie a tutti.